Il progetto Apropo e di Apropole, vicino ai vicini, è nato nel 2013. Consiste in una mensa sociale che ogni giorno alle 3 e mezza al Parco Sergei Lasò di Chisina o distribuisce un pasto caldo alle persone che ne hanno bisogno, solitamente pensionati con una pensione particolarmente bassa oppure persone senza tetto. Grazie a tutti! Questo progetto ha due intenti, quello sia di aiutare direttamente le persone che hanno bisogno di un pasto caldo ma anche quello di avvicinare i giovani, i volontari che distribuiscono il patto all'area del volontariato e dei servizi sociali in generale. Questo progetto e i pasti che vengono cucinati per queste persone vengono finanziati dalla campagna di Pasqua, campagna dei pasti che corrisponde al Banco Alimentare Italiano e che ha praticamente le stesse dinamiche. Quindi una volta l'anno vengono raccolti degli alimenti a lunga scadenza e durante l'anno poi vengono distribuiti sia attraverso pacchetti alimentari alle persone che hanno bisogno, sia attraverso questa mensa mobile. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!